Vabbè, vuol dire che allaccieremo questi bottoni? Ma che ci fai, fritti Friol? Friol frigge croccante e asciutto e ti ricorda questo appuntamento. Mi sembra di capire che avete una grande esperienza di bambini. No, non ne ho affatto, ma lo vedo quando il bambino è felice, lo vedo. Giovedì per il ciclo Sofia Sofia, un marito per Cinzia. Un momento importante di una grande carriera, un film di Hollywood con Care Grant. Ma cerca di mettervi dal mio punto di vista. No, anzi forse è meglio di non. Per la verità siete molto lontana dal mio ideale di vecchia e febile governante, ma dovete restare. Un marito per Cinzia, giovedì alle 21.30, su Rete 4. Aggiungi un posto a tavola perché c'è manzatino. Che bella tovaglia. Ti piatti? È un regalo di manzatino. È il personality zucchi. Personality? Eh sì, ogni tovagliolo è strettamente personale. E tu cosa aspetti? Solo 15 punti e personality zucchi è già tua. Manzatino. Lui è così piccino e tu lo proteggi. Già nel bagnetto ti prendi cura della sua pelle delicata con Infasil e della tua pelle delicata. Ti prendi cura quando fai il bagno. Test clinici hanno dimostrato che Infasil è gentile anche sulla pelle irritata. Delicato sulle parti delicate. Lo proteggi. Lasciati proteggere. Dal primo giorno la stessa delicata protezione. Infasil, bagno, latte, intimo. C'è un lavoratore infaticabile che ha mille mestieri. Ma una sola professione. Professione carne. Per lui la carne, le proteine e le vitamine dei bocconi figli. Per te la sicurezza di pensare alla sua salute. Bocconi figli. Bocconi di salute. State attenti. Le bolle non sono tutte uguali. Ferrarelle e fervecenti naturali si nasce. Attenzione, il gelo brucia. Brucia la freschezza. Il gusto naturale dei cibi. Proteggi i tuoi alimenti con i sacchetti per congelazione cookie gelo. Super rinforzati, igienici, pratici. Cookie gelo salva e protegge. Antica erboristeria, dal cuore della natura, antiche ricette, a base di preziosi estratti di erbe officinali, in collaborazione con l'Istituto Erboristico L'Angelica. Da antica erboristeria, shampoo all'ortica. Specifico per restituire ai capelli grassi, morbidezza e vitalità. Shampoo, antica erboristeria. Le ricette della natura. Naturalmente, dolcemente, strep. Per i suoi componenti e per l'azione profonda e naturale delle cerette e delle strisce. Strep, per una depilazione che dura a lungo nel tempo. Strep, al miele e ceradati, per il viso e per il corpo. Strep, creme, cerette, strisce e gel. Naturalmente, dolcemente, strep. Harmony, l'amore più amato. Dal 30 settembre, tre e quattro è... Il ritorno di Colombo. Dodici nuovi film con Peter Funk. Omino Bianco Supercolor vi ricorda questo appuntamento. Omino Bianco Supercolor, indispensabile contro le macchie. Flyamore, farina, tornare il nuovo pochino. L'amore più amaci. L'amore più amici. Chiude.